Da anni crediamo fortemente nella zona del Roero, un bellissimo territorio confinante con la zona delle Langhe e proprio per questo motivo mio papà in particolare alcuni anni fa ha deciso di investire in un vigneto che produce appunto Roero Arnaise di OCG. Un bianco forse il più conosciuto della nostra zona ma anche ovviamente autoctono. Abbiamo deciso anche di investire in un grandissimo nebbiolo, il nebbiolo d'Alba, la vigna Val Maggiore in particolare. Un grande nebbiolo è prodotto appunto a Vezza d'Alba quindi nella zona centrale del Roero. Vi aspettiamo quindi ad assaggiare questo grande autoctono della zona del Roero, il Roero Arnaise, ma anche questo nebbiolo molto fine, molto elegante e il nebbiolo d'Alba Val Maggiore.